Da oggi in Italia chi ha in mente un'idea imprenditoriale o un'idea lavorativa può ottenere un prestito fino a 35.000 euro. Questi soldi provengono dal taglio degli stipendi di un gruppo di parlamentari. Questa è una idea politica davvero a servizio dei cittadini che siamo contenti finalmente sia realtà. Noi parlamentari del Movimento 5 Stelle italiani ed europei abbiamo ritenuto giusto tagliare oltre metà dei nostri stipendi e metterli su un fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese italiane. In un anno abbiamo messo insieme oltre 10 milioni di euro con i quali aiuteremo un'impresa al giorno per oltre 10 anni. Inoltre, secondo l'ente nazionale del microcredito, ogni 25.000 euro finanziati si creano oltre due nuovi posti di lavoro in Italia. Per correttezza abbiamo pensato che fosse giusto affidare i soldi dei nostri stipendi ad un fondo pubblico in modo tale che noi non potessimo gestire l'assegnazione di questi fondi. I nostri soldi finiscono su un fondo del Ministero dello Sviluppo Economico che grazie anche alle nostre pressioni finalmente da metà aprile sarà operativo e permetterà a tutti i cittadini di potervi accedere. Da quel momento tutti i cittadini italiani potranno fare domanda comodamente online attraverso il sito del Ministero per accedere ai 10 milioni di euro di stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Noi vi teniamo costantemente aggiornati su come accedere ai nostri fondi ed è per questo che vi ricordiamo di consultare periodicamente il nostro sito www.microcredito5stelle.it dove potrete trovare tutte le istruzioni, le notizie più importanti e le domande più frequenti. La procedura è semplice ma vi consigliamo comunque di farvi assistere da un professionista che sia quello vostro di fiducia. Nel caso in cui non ne aveste uno, noi abbiamo voluto darvi un'opportunità in più. Abbiamo chiesto a tutti i consulenti del lavoro d'Italia di assistere gratuitamente coloro che fossero interessati ad accedere ai fondi degli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Per questa ragione abbiamo pubblicato sul sito web www.microcredito5stelle.it un elenco di tutti i consulenti del lavoro d'Italia. Alcuni di voi ci hanno segnalato che dei professionisti non erano disponibili a darvi una mano per accedere al fondo del microcredito. Ed è per questo che abbiamo chiesto all'ordine professionale di inviarci regione per regione, provincia per provincia, il nominativo di tutti i consulenti del lavoro disponibili ad aiutarvi gratuitamente ad accedere al fondo per il microcredito su cui ci sono i nostri 10 milioni di euro. E sono felice di annunciarvi che da oggi su www.microcredito5stelle.it è presente l'elenco regione e per provincia di tutti i consulenti del lavoro che sono disponibili ad aiutarvi gratuitamente. In nessun paese del mondo è data la possibilità ad un cittadino di aprire un'impresa o aiutare la propria impresa con i soldi degli stipendi dei parlamentari. Oggi, grazie al Movimento 5 Stelle, questa iniziativa è una realtà italiana.